291 ponti, 91 gallerie, un'altitudine massima di 2.033 metri sul passo dell'Oberalp. Sono solo alcuni dettagli di una delle tratte ferroviarie più spettacolari del mondo. La grandezza di questa opera costruita all'inizio del secolo scorso è imponente. Se ci si lascia trasportare dalla fantasia si possono immaginare gli operai al lavoro per costruire la linea nella Valle del Reno, detta anche il Grand Canyon della Svizzera. I rischi e le difficoltà che hanno dovuto affrontare per permettere a tonnellate di metallo e centinaia di persone di attraversare con tutti i comfort la rude natura delle montagne. O ancora, si può percepire l'impronta lasciata dai walser, una popolazione germanica giunta secoli fa in queste terre ostili, dove si è stanziata per arrivare fino ai giorni nostri. A presto! 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 quasi come fosse un gigante buono che veglia sulla vallata Grazie a tutti